Riaprire la biblioteca d'annunzio agli studenti, questa è la richiesta dei giovani democratici di Pescara? Sì, questa mattina siamo davanti alla biblioteca d'annunzio per chiedere la riapertura di questa biblioteca, quindi in particolare della problematica di Pescara, dove città universitaria sono disponibili solamente 21 posti in cui studiare, ma siamo qui per chiedere in generale la riapertura e la valorizzazione di tutte le biblioteche regionali, abbandonate ormai da febbraio 2020, è stato consentito solamente da pochi mesi il prestito dei libri, ma le biblioteche come luogo di cultura, come aule studio sono abbandonate a se stessi e ancora chiuse, quindi gli studenti non hanno un luogo in cui poter studiare e questa regione non si interessa a questa tematica centrale, quella che noi abbiamo chiamato il cuore della cultura. Una richiesta che ovviamente non riguarda solo Pescara, Mastrangelo, ma tutta la regione? Certo, la situazione drammatica della biblioteca d'annunzio è anche la di Giampaolo a Pescara, perché anche la di Giampaolo è versa in condizioni di mancanza di personale importanti e molto debilitanti, è una condizione comune a molti, quasi tutti gli spazi di cultura purtroppo nella nostra regione. Stiamo partendo a livello regionale con l'ottimo nostro responsabile università, Luca Guerrini, con una mappatura dell'accesso agli spazi universitari, quindi non solo aule studio, ma anche mense, anche residenze universitarie. E voglio dire una cosa sull'università di Pescara, molto importante, perché Saverio parlava di 21 spazi di studio. 21 spazi non vuol dire 21 indirizzi, vuol dire 21 sedie disponibili per gli studenti pescaresi solo all'università. E a proposito di luoghi di studio, volevo dire che i giovani democratici d'Abruzzo e di Pescara rilanciano la petizione lanciata dal mio amico Gianmarco Girolami per intitolare a Roberto Straccia, il giovane ragazzo fuorisede, studente ucciso qualche anno fa a Pescara, un'aula studio dell'Università di Pescara. Uno studente fuorisede pescarese, uno di quelli che danno valore aggiunto alla nostra città tutti i giorni e per il quale la famiglia e tutta Pescara con questo gesto devono chiedere verità.